Ci sono due gradi, stiamo andando a Torun, vogliamo via col vento Freddo fra? Freddo, Andrej c'è freddo? Dove andiamo? Cosa andiamo a fare? Al Blues Meeting C'è l'estate polacca, l'estate polacca, quanti gradi sono? Due? Due Torun arriviamo Il centro storico da Torun è molto bello, soprattutto perché il governo della città ha fatto una regola che non puoi mettere commerciali sui palazzi, eccetera Ah, non puoi mettere insegne? Sì, insegne pubblicità Ok, siamo arrivati all'hotel Siamo a Torun, città di Copernico, questo è il centro storico Siamo arrivati, benvenuti a Torun Siamo a Torun Ciao 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 Ciao, come ti faccia? Ciao 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 Grazie 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 Ok 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 Słaska samochód Soundcheck What's he doing? 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 What's he doing?